Una vittoria zoppa. In Montenegro il Partito Democratico dei Socialisti del Presidente Milo Djukanovic è in leggero vantaggio, ma il voto per il rinnovo del Parlamento dà ragione alle opposizioni filo-serbe e pro-Russia, che nel testa-testa e con le possibili alleanze in cantiere possono rivendicare il cambio della guardia. Un duro colpo per l'establishment filo-europeo al governo. Popolo del Montenegro, la libertà è avvenuta, dice Krivokapic ai suoi sostenitori. Il Montenegro è tutto diviso e se non offriamo quella mano di riconciliazione non la offriremo mai. Noi offriamo quella mano a voi. Il margine molto stretto tra le due coalizioni, 33% all'opposizione di Krivokapic e 35% alla maggioranza al governo, apre a coalizioni inedite rispetto al dominio trentennale dei filo-europei montenegrini che con Djukanovic invitano ad attendere i risultati finali. In questo momento è chiaro, dice, che insieme ai nostri tradizionali partner della coalizione abbiamo 40 seggi. La lotta per la maggioranza nel Parlamento montenegrino è ancora in corso. Decine di sostenitori dell'opposizione sono scesi in strada per celebrare una vittoria autodichiarata che potrebbe segnare un cambiamento storico nello stato balcanico, cambiamento di direzione rispetto alle istanze filo-occidentali del presidente Djukanovic.